Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Magus of Lotus Oggi parleremo di un mazzo modern molto particolare Lo includerei nel Magus of Lotus Experiment Queste liste che ogni tanto proviamo a fare, ci sbizzarriamo Per proporre delle alternative carine, divertenti Anche ai classici tier, ai classici mazzi competitivi Che sicuramente tutti conoscete Prima di iniziare però come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di mettere mi piace, commentare i nostri video se vi fa piacere, se vi va E se volete supportarci vi ricordo che potete sottoscrivere un abbonamento sia qua su Youtube Ci sono diverse tariffe, potete scegliere quella che più vi si dice, quella che più ritenete opportuna Oppure su Twitch Su Twitch se avete Amazon Prime l'abbonamento al nostro canale sarà completamente gratuito Vi basterà collegare i due account e sottoscrivere l'abbonamento a Magus of Lotus Quindi nel caso in cui vogliate supportarci avete Amazon in un ottimo modo A voi non costa nulla ma per noi è un supporto veramente enorme Ci permette di riportare sempre più contenuti Quindi mi raccomando e grazie se lo fate in anticipo Iniziamo con il video, con la lista subito Vi ho messo qua un vurmone gigante Qualcuno magari ha già intuito dove voglio andare a parare La lista la potremmo chiamare Io l'ho chiamata Crack Boom Crack and Wick Cremator Impervious Grid Perché queste due carte? Perché sono le carte portanti del mazzo Ma andiamo per ordine Allora, dove nasce l'idea del mazzo? L'idea del mazzo nasce da Crack and Wick Cremator Questa creatura, questo 4, 5, 4, gigante, sciamano Due rossi e due colorless Che dice, quando questa carta entra nel campo di battaglia Scarta una carta a caso Se hai scartato una creatura in questo modo Fai danno, il Cremator fa danno pari alla forza di quella creatura a un giocatore Quindi se noi scartiamo un 4, 4 faremo 4 danni Se noi scartiamo una creatura molto grossa faremo tanti danni Qual è l'idea? Cercare di scartare Impervious Grid Grid Worm, scusate Che è un 16-16 Quindi noi scarteremo lui e faremo 16 pizza in faccia all'oppo Punto Su un LTV Senza se e senza ma E proporremo comunque un 5-4 Quindi Quello che in origine ai tempi era stato concepito come un handicap per questa carta Perché in qualche modo comunque Sì, è vero che facevamo danno Però dovevamo scartare una carta a caso E comunque Potevamo perdere una spell importante senza fare dei danni In questo mazzo noi cerchiamo di sfruttarlo a nostro favore per fare un 5-4 a questo 4 E in più fare un sacco di danni Tendenzialmente quando faremo 16 danni all'oppo sarà GG Non ci saranno grossi modi di uscire da questa cosa Ovviamente non può essere solo questa la strategia del mazzo Io una volta, come vi dicevo, giocavo questa lista diversi anni fa e mi ha dato parecchie soddisfazioni Questo mazzo, scusate, non questa lista Però parliamo di veramente diversi anni fa Non era ancora neanche uscito Modern Horizon Quindi non c'erano tante carte che hanno rivoluzionato completamente il meta Oggi ho deciso di cambiare la lista e cercare di darvi una sorta di anteprima Di una possibile lista che secondo me potrebbe funzionare Anche considerando le carte nuove che sono uscite poi successivamente Andiamo per ordine, analizziamo prima le creature Come vi dicevo, oltre alla combo Cragunwick, Cremator e il Gridworm Dobbiamo giocare anche altre creature per cercare di vincere a prescindere No, non dobbiamo solo contare sulla combo In supporto ci vengono sicuramente le carte di Horizon Come stavo dicendo, come per esempio Territorial Cavu Che è questa creatura, costo 2, un rosson verde con domain Che dice, questa creatura ha forza e costituzione pari al numero di tipi di terre base Tra le terre che controlliamo Ovviamente questo mazzo, pur essendo di base un Nayad Come potete vedere, giocherà le fetch, i triomi E tutte le possibilità di giocare la mana base pentacolora Ultimamente va molto di modo a questa cosa Si sta utilizzando in diversi mazzi Si sta utilizzando in Zoo, si sta utilizzando in Omnoth E in altri mazzi modern Quindi è una strategia che sta funzionando E ho deciso di riproporla anche per questo mazzo Come dicevo, Territorial Cavu con domain Quindi l'idea è di farlo il più fretta possibile E sarà tendenzialmente un 5-5 Comunque una creatura 4-4 Molto grossa già a turno 2 Perché se ne facciamo Fetch Trioma turno 1 Fetch Pershock turno 2 Sarà come minimo una 4-4 e probabilmente anche una 5-5 Veramente molto grossa In più ha due effetti importantissimi Allora il primo è quello più sinergico con il mazzo Che dice, scarta una carta, se lo fai peschi una carta Questo è fondamentale per due motivi Il primo motivo è cercare la combo se ne abbiamo bisogno Quindi cercare di scavare nel mazzo Magari buttando via le terre in late Per cercare la combo Il secondo motivo è buttare via i pezzi brutti Perché se ne abbiamo 3 Impervious in mano Sono veramente carte brutte Non le vogliamo avere in mano A meno che non abbiamo un Cremator Allora in quel caso lì ovviamente averne tanti È meglio perché aumenta le possibilità di scombare O comunque poter scartare una carta Per scartare un'altra carta Ci dà la possibilità di togliere le carte brutte Per la combo o per la strategia aggro A seconda di quello che stiamo adottando in quel momento E cercare di sostituirle con carte più importanti In quel momento lì Quindi il primo effetto è veramente importantissimo Il secondo comunque da non sottovalutare Esiglia una carta dal cimitero dell'avversario Effetto fortissimo Il territorio del cavo L'abbiamo già detto in tantissimi video Anche di finanza è una carta con un potenziale enorme Sottovalutatissima A un prezzo anche ridicolo attualmente Quindi carta che Piccola parentesi di finanza Se non avete mettetela da parte Perché per il prezzo che è una carta Che ha una giocabilità altissima E fortissima veramente Quindi carta che a me piace veramente tantissimo Poi andiamo sullo Sheen of Draco Sheen of Draco Carta che ultimamente si sta iniziando a giocare In Zoo Io attualmente sto giocando proprio Zoo In Modern E devo dire che è una carta veramente molto molto forte Allora è questa 4-4 Artefatto creatura Drago A costo 12 Anch'essa con Domain Questa volta però si sconterà di 2 Per ogni tipo di terra base Quindi se noi avremo tutti e 5 i colori Questa spell costerà 10 in meno 10 in meno vuol dire che da 12 mana Noi la pagheremo 2 2 mana per avere un 4-4 Che dice Ogni creatura che controlli ha Cautela 6 bianca Antimallocchio 6 blu Legale di tale 6 nera Attacco improvviso 6 rossa Trampol 6 verde Nel nostro caso avranno quasi tutte Attacco improvviso e Trampol Che comunque è tanta roba Cioè avere un cavu con 5-5 Attacco improvviso Travolgere Quando attacco pesco scarto E cavolo E' una bella mucca da gestire E in più lui comunque un 4-4 che vola Che per non sapere leggere né scrivere Non è niente male Tra l'altro se anche vi dovesse capitare Che non riuscite a castarlo Perché non avete il mana fixato Ma lo scartate di Cremetor Comunque sono 4 danni in faccia Che non sono pochissimi 4 danni E poi ultima creatura Il Furi Non c'è bisogno di presentazioni 3-3 double strike Costo 5 Quando entra fa 4 danni Suddivisi fra creature e princewalker Però se abbiamo esiliato una carta rossa La possiamo giocare di evoke E quindi non pagare il costo di mana Ne ho messe 2 Perché servono per pulire il board Comunque anche questa Se non la serve a castarla Nel caso in cui si scarta con Cremetor Sono 3 danni E comunque un bolt Insomma può avere diverse funzionalità E una 3-3 double strike Quindi mena pure forte Una carta veramente niente male Passando alle spell Abbiamo tutti i botti possibili Immaginabili 4 triple frames Carta importantissima anche questa Fa x danni È una creatura È un giocatore Appare al numero di tipi di terre base Quindi anche questa tendenzialmente farà Quasi sempre 4-5 danni Sono veramente tanti per una sorcery 4 lightning bolt Non ve la spiego neanche 4 lightning helix Anche questa non serve Spiegazioni 3 danni 3 vite È semplicissima Perché ben 4, 8 e 12 botti Perché dobbiamo uccidere il nostro avversario O di aggro L'abbiamo detto Con il cavu I botti E menando di creature Shion E Cremetor Oppure se noi abbiamo fatto Cremetor e 16 danni Dobbiamo avere la certezza Che il nostro avversario muoie Da quei 16 danni Quindi se noi abbiamo fatto anche Semplicemente un bolt Saranno 16 più 3 e 19 Tendenzialmente un danno di feccio O qualcos'altro Se l'è preso E siamo sicuri di chiudere Quindi i botti sono molto importanti E in più sono delle removal Per cercare di far passare Le nostre creature Sulla combat Altra spell In monocopia Ma comunque molto carina L'Ela D'Ambrace Call Cercate nel mazzo Una creatura La rivelate La mettete in mano Poi mischiate il Il Grimorio Molto forte Perché ci permette Di mettere il Cremetor All Wurm Se possiamo scombare Quindi per esempio Se abbiamo pochissime carte in mano Se ne abbiamo solo una Possiamo sostituire Una sola creatura Possiamo sostituirla E poi scombare A seconda somma della mano E scusate Non una sola creatura Il Cremetor All Wurm Più un'altra creatura E quindi Molto carina Molto utile In più ci permette Anche di tutelarci Per dire Furis Abbiamo bisogno di pulire il board Cavus Abbiamo bisogno di menare Comunque è una carta molto forte E molto versatile Reparto incantesimi Abbiamo le line binding Novità di Dominaria Costo 6 flash Che si sconta di 1 Con domain Quindi anche qua L'idea sarà Pagarla 1 E di fatto fa Moblivion ring Potremmo dire Esiglia un permanente Non terra Fin quando non lascia Il campo di battaglia E È una removal Niente da dire È una removal Tendenzialmente a costo 1 E poi il 4 per di Fable Anche questa Ha una Duplice importanza La prima È il Il fatto di Fare un 2-2 Sciamano Che Quando attacca Crea un tesoro Quindi in qualche modo Di accelerare E fixare anche Il nostro mana Che può sempre essere utile La seconda Possiamo scartare Fino a 2 carte Pescare fino a 2 carte E anche questo È importante Per cercare di Sistemarci la mano E provare a scombare La terza La esiliamo Si flippa Flippandosi diventa Una 2-2 Che pagando 1 Crea una copia Di una Creatura Non leggendaria Che controlli Con asta Attenzione bene Poi l'ha sacrificata Alla fine del turno Attenzione bene Che potete copiare Anche lui Il cremator Quindi Anche questo Potrebbe essere Una sinergia Molto interessante Nuova Che ci permette Di aiutarci Nelle nostre attenzioni Nella scombata E comunque Male che vada A copiare un 5-4 Rapido Schifo Non fa Quindi Fable Ottima aggiunta Per questo mazzo Mana base Brevemente Non mi voglio dilungare Più di tanto Abbiamo tutte le fetch O comunque Tante fetch Un paio di triomi E tante shockland L'idea è di avere I 5 colori Sempre in campo Se non 5-4 Ma comunque Il più possibile Facilmente Probabilmente Gioco troppe basiche Forse la montagna Si potrebbe tagliare Per un'altra Un'altra fetch Comunque la mana base Potrebbe essere Da sistemare Ma l'idea è comunque Di avere Tanti colori In fretta Ricordatevi Solo questa cosa La side Non voglio dilungarmi Tantissimo Perché Giocate 5 colori E la side Come diciamo sempre È una meta call Quindi 5 colori Avete veramente Accesso A tutto Carte che potrebbero Essere veramente Importanti per questo mazzo Sono le velo summer Che queste le consiglio A prescindere Perché Se noi riusciamo A proteggerci Il cremator Quando entra O comunque Proteggerci dagli scartini Che ci fanno malissimo E ciclarci sopra Possiamo fare Veramente Tanto Tanto male Quindi 3-4 per di questa carta Secondo me In questa tipologia Di mazzi Ci va sempre Le altre Sono abbastanza Meta call Hit contro il cimitero Forza vigor Per levare Altefatti Incantesimi Un'altra Removan Alpin moon Se vi aspettate Tron Valakutvari Insomma La side Si può giostrare Niente Come dicevo Questo mazzo L'ho giocato In una versione Molto diversa Da questa Perché era Tanti anni fa Ma mi ha dato Diverse soddisfazioni In un torneo locale Quindi È un mazzo Competitivo In super tire Assolutamente no È un mazzo Che Hai le carte Vuoi provarlo Una serata Al tuo negozio Di fiducia A giocare Modern Può valere la pena In quel caso Di secondo me Sì È un mazzo Che è divertente Per voi Non tanto per l'avversario Quando scartando Una carta a caso Riuscite a fargli 16 danni Soprattutto quando Schiappate Però È carino Divertente Non fatevi Grosse illusioni Ma Se avete le carte E volete provarlo Secondo me È divertente Niente Fatemi sapere Cosa ne pensate Se vi piace L'idea del mazzo Se Magari L'avete anche provato Una lista simile In passato O avete intenzione Di montarla E fatemelo sapere Qua nei commenti Ci vediamo alla prossima Come sempre Ciao a tutti